Il colosso francese Suez realizzerà il nuovo depuratore di Tortoreto e di Giulianova Nord. Il primo lotto dei lavori è stato consegnato ufficialmente a Teramo dal presidente della Ruzzoreti Antonio Forlini alla presenza del governatore Luciano D'Alfonso. Il progetto, che si concluderà nel 2018, costa complessivamente oltre 5 milioni di euro e rappresenta la salvezza ambientale del litorale terramano. Il problema principale del depuratore di Tortoreto è la sua localizzazione attualmente perché è in un'area sottoposta spesso a esondazioni da parte del salinello e quindi era necessaria questa delocalizzazione per evitare disservizi che negli ultimi anni, soprattutto d'inverno, sono stati frequenti. Aumenta poi la capacità depurativa perché passerà da 44 mila abitanti equivalenti a 62 mila, quindi con un notevole incremento. Quindi sicuramente è una situazione che definitivamente risolverà i problemi, e quei pochi problemi che salteriamente ci sono in quella zona. E per i residenti? Allora, è chiaro che purtroppo la logica del NIMBI vale anche per i depuratori ed è chiaro che nessuno vorrebbe un depuratore tendenzialmente vicino casa, però vi assicuro che sono stati fatti studi e verifiche di quelle che sarebbero state le soluzioni alternative e dal punto di vista sia dei costi che della ubicazione, l'ubicazione che poi è stata prescelta è la migliore in assoluto. Il Presidente D'Alfonso ha poi spiegato che il secondo lotto dell'impianto, indispensabile per la dismissione del vecchio depuratore di Tortoreto, è tra i progetti previsti dal master plan della Regione Abruzzo. Alla domanda sul futuro degli Ato, enti doppione, dopo la nomina del nuovo direttore dell'ERSI, ente regionale servizio idrico, D'Alfonso ha ribadito che sarà proprio l'ERSI l'unica cabina di regia in materia d'acqua. Ore contate dunque per gli enti d'ambito abruzzesi e rispettivi consigli di amministrazione.